Direttrice, preparatrice, controllo, artista di doti veramente eccezionali, ogni cosa in una sola persona, Emma Carelli. L'unico impresario che ha avuto il coraggio di iniziare una stagione lirica in un tempo così difficile, quando pure la scala ha chiuso, è una donna. E che mi pare di aver realizzato un vecchio sogno, sì, un mio sogno, di esaltare come merita l'opera tetrale contemporanea. Era una vera vergogna che un teatro della massima importanza fosse gestito da una donna. Queste donne devono ruggire!